Si ritrae Olivo De Rio, si parte con Odina che deve saltare Orchidea HBD e Opinion Rock, più a largo Orca Loca, trae in linea l'invoco della prima curva con Opinion Rock che ribatte a Orchidea HBD, Opinion Rock in vantaggio, lo strappo in 13 e 3, Orchidea è seconda, Odina che deve decidere da farsi quindi Orca Loca, ora Odina punta dritta lasciato a codare Orchidea HBD, vedremo cosa sceglie Davide Nuti, ovviamente ha sbagliato Olivo De Rio. Il 400 in 28 e 7 con Odina che va su Opinion Rock e tende a passare dopo 500 di gara, di fuori il primo a provare l'avanzata e il numero 8 di Ozono di Casei. I 600 di Odina si completano in 43 e 7, 33 dopo lo strappo, vengono via Orca Jet e Oimbaba che si getta di galoppo una volta anticipato da Orca Jet, seconda curva invocata con Orca che migliora, Odina che è sempre in vantaggio su Opinion Rock e Orchidea HBD. La metà gara in 59 e 1, 30 e mezzo questi 400 metri con Odina che ha sempre una lunghezza su Opinion Rock, arriva a Orca Jet trascinandosi Ozono di Casei, quindi Orchidea HBD ha mosso anche Orietta Semi. Il chilometro di Odina si completa in 1, 14 e 3, 37 dal palo metaretto opposto, Odina ha mezza di vantaggio nei confronti di Orca Jet che ha speso un po' per arrivare lì. Quindi Ozono di Casei in seconda pariglia in anticipo su Orietta Semi, l'ultima curva è imboccata, il paziale in 29 e 7, 28 e 9 per i 1.200 con Odina che continua a comandare, Orca Jet sempre lì di fianco, Ozono di Casei che se ne va in terza ruota, ha da spendere ma non ha lo spazio, per adesso Opinion Rock si è avvicinata pure Orietta Semi, Odina è sempre in vantaggio, è lunga Orca Jet, ha spazio invece adesso Opinion Rock e prova a spostare nella scia di Odina, Opinion va su Odina, Odina ancora in vantaggio ma Opinion prova a cambiare azione, Opinion attacca Odina, la coglie in crisi ad 80 dal palo e sul palo è Opinion Rock che probabilmente stampa Odina di precisione, foto stretta, molto stretta, vediamo Opinion Rock rimolta palmo a palmo Odina e sul palo mette il muso davanti, la vittoria per Opinion Rock, Davide Nuti, Tiberio Cecere, la Sant'Eusebio della famiglia Rocca, 8.921 al tot, Opinion Rock.